I contagi da coronavirus a Bitonto non accennano a diminuire, anzi di settimana in settimana crescono esponenzialmente. Negli ultimi giorni in particolare si è registrato un più 91, per nulla incoraggiante. Sull'intero territorio comunale dunque si contano al momento 645 positivi, 585 a Bitonto, 39 a Mariotto e 21 a Palombaio. Incremento che ha interessato tutta la Puglia inserita da ieri in virtù dell'indice RT in area arancione. Vietati dunque gli spostamenti fuori dal comune se non per motivi di lavoro o salute, chiusi bar e ristoranti che potranno effettuare solo l'asporto e la consegna a domicilio. Francamente non credo che i ristoranti siano la causa del peggioramento della curva dei contagi, ha commentato su Facebook il sindaco Michele Abaticchio, e le interviste condotte dall'ASL confermano che le mancate precauzioni all'interno degli ambienti domestici siano il principale problema. Intanto però nella nostra città cresce la preoccupazione anche per i primi casi registrati nella casa di riposo Villa Giovanni XXIII, che era riuscita a tener fuori dalla porta il virus nella prima ondata. Durante uno degli screening periodici infatti sono stati scovati quattro ospiti e due operatori positivi. Questi ultimi sono a casa, mentre gli anziani sono tutti asintomatici e isolati nell'area Covid dedicata all'interno della struttura. A Villa Giovanni purtroppo non era ancora partita la campagna vaccinale. Nonostante i continui solleciti non ci hanno vaccinati, ha commentato infatti il direttore Nicola Castro. Ora le prese con la gestione del focolaio. L'ASL in queste ore sta provvedendo a sottoporre a tampone tutti gli anziani e il personale con uno speciale macchinario in dotazione al distretto sociosanitario di Bitonto.